Ma io penso che ci sia questa volta un altro fattore che non sarà stensionistico, anzi contrario, c'è una maggioranza silenziosa che è sempre esistita e che non ha mai votato perché era schifato della politica degli ultimi 50 anni e ritengo che siamo andati a votare finalmente. Mi aspetto innanzitutto che i giovani vadano a votare, il voto è un diritto dovere ma comunque insomma è anche un'opportunità per dire la propria e per dare comunque l'indiclinazione di quello che serve. Mi spero e mi auguro che si ritorni un po' a un principio più di social democrazia, insomma più che guaglianza, distribuzione delle risorse e tutto il resto. Prima di tutto dare uno stipendio alle persone che non hanno niente, almeno un minimo, ecco questo è portato.